buongiorno a tutti ragazzi buongiornissimo caffettino fumantino birichino si è abbastanza bollente è uscito mo mo dalla macchinetta del caffè allora come state so che oggi è la seconda giornata della prova no dell'esame seconda prova d'esame probabilmente quando uscirà questo video molti di voi staranno facendo l'esame molti altri stanno a lavoro e io sarò all'ospedale a fare il controllo allora è da una settimana che non faccio video proprio esattamente oggi se non avessi portato questo video sarebbe stato l'ottavo giorno tipo perché perché il calciomercato mi annoia appunto perché non c'è niente di cui parlare perché se io dovessi portare un video il giorno dopo subito verrei smentito perché è questo il calciomercato è questo i giornalisti citano 20 25 30 nomi e di questi 30 nomi solo due sono reali quindi è impossibile cioè vanno che prima o poi il nome lo prendono il nome lo prendono punto basta è questo è il mercato e per questo mi annoia non parlo delle altre squadre perché i video sarebbero poco visti o per niente visti potrei parlare di Lukaku di quanto non mi piace come calciatore di quanto l'inter si sia piegato a 90 pur di portarlo o Lukaku si è piegato a 90 perché in premio ha fatto schifo quindi l'unico modo per mettersi in mostra e tornare un campionato di verda ma comunque basta vabbè potrei potevo parlare anche benissimo di quanto se mi sbaglio capello o un altro allenatore ha detto no di maria in serie a potrebbe fare la differenza e diventare come maradona molti lo hanno offeso diciamo però quella dichiarazione è stata vera nel senso che chiunque in questo campionato di merda può fare cose determinanti e essere paragonato a maradona questo per dire che maradona ha giocato in serie a quando la serie a era con le palle sotto potrei parlare di tutto ma sinceramente mi rompo il cazzo ma oggi volevo parlare di un paio di cose di un paio di aggiornamenti di mercato e di una dichiarazione di ieri di Koulibaly che ieri ne ho parlato in live perché io sarei pure io posso pure non portare video ok perché mi annoia però ogni tanto mi troverete in live sulla piattaforma viola io ve lo ricordo sempre gli orari ormai sono molto probabilmente stabilmente in via stabile la sera quindi non più il pomeriggio ma la sera perché mi sono ritirato da pro club quindi la sera ho più tempo libero e quindi mi troverete lì iscrivete il link sta sotto come sta sotto anche il link di instagram bla 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 dunque Koulibaly ieri ha fatto una dichiarazione importante una dichiarazione che diciamo lascia pochi dubbi l'andiamo a leggere assieme dunque cambiamo schermata allora il difensore del napoli Koulibaly ha rilasciato un'intervista ai colleghi e bla 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 a napoli c'è tanto amore tifosi mi apprezzano è fantastico quando urlano il tuo nome sono cresciuto lì i miei figli sono sono nati lì un legame speciale con napoletani che sono anche i primi tifosi a senegal e ho ricevuto tanti messaggi quando abbiamo vinto la coppa d'africa i miei amici e fratelli vengono accolti bene in città e fin qua diciamo solite parole d'elogio da parte un calciatore straniero diciamo così non posso dire di essere totalmente felice perché la corsa dallo scudetto è stata importante ma non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo i tifosi erano un po dispiaciuti avremmo voluto regalarglielo è davvero un peccato e fa davvero male napoli è un piccolo è come un piccolo paese i tifosi amano il loro club e i loro colori potevamo fare meglio ma siamo contenti per il ritorno in champions napoli come un piccolo paese nel senso io non lo non la vedo come un'offesa sono sincero cioè molti si sono offesi per me no per me no vabbè queste sono parole importanti perderemo alcuni calciatori altri se ne andranno perché hanno i contratti scadenza ci saranno alcuni cambiamenti ma so che in napoli farà di tutto per lottare per lo scudetto è qua che mi focalizzerei perderemo alcuni giocatori anche se altri se ne andranno perché hanno i contratti scadenza insegne che se ne andato ed era il capitano gulam se ne andato e con un libali ha giocato diversi anni insieme ma qui forse mertens non lo so per me no per me no per me assolutamente no per me no quindi ci saranno alcuni cambiamenti probabilmente quelli bali sa delle cose lo hanno contattato per alcune cose e quindi direi che non c'è nulla di di male diciamo che per me queste parole soprattutto le ultime sono parole da da capitano mi viene da dire e io sono uno di quelli che dice quelli bali non sa fare non ha la stoffa da capitano io sinceramente sono combattuto nel senso lo voglio vedere lo voglio vedere da capitano vero nel senso insieme sei andato tu sei capitano punto fammi vedere se vali ok mo questa mia frase potrebbe essere non so capita male però io voglio aspettare prima di definirlo a tutti gli effetti un capitano le parole sono capitano da capitano però voglio vedere meno ansia da gulibali perché quando indossa la fascia ha indossato la fascia in assenza di insigne io da gulibali ho visto troppa ansia troppo nervosismo e questo nervosismo ha portato anche la squadra a essere nervosa ok ma comunque lasciamo da parte queste cose diciamo una dichiarazione onesta altre dichiarazioni sono quella di mertens che avrebbe diciamo aperto nel guadagnare meno di due milioni pur di rimanere a napoli quindi se è vera questa notizia che sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio di due milioni va rinnovato senza se senza ma va rinnovato perché mertens è un giocatore ok 36 n ok panchinaro però è uno che può dare la scossa può entrare benissimo da subentrato da esperienza da personalità quindi se perdi anche mertens in attacco e diventa diventa abbastanza difficile diventa abbastanza difficile ultime novità a si napoli indagato ne ho parlato anche ieri o io sono stronzata sono stronzata cioè stanno andando avanti da tipo tre anni due anni e mezzo riguardo a sto fatto di osiman allora personalmente ognuno può pompare i giocatori quanto cacchio vuole se gioachino vale 5 milioni per la società per la società che lo vende è stupida la società che l'acquista o che lo accetta come contropartita semplice o no o mi sbaglio non penso che della rendis abbia minacciato capistolo il lille a dire si è in debito si tre guai un cielo è rammosi non penso che sia così comunque per me l'unica cosa che potrebbe accadere secondo me è una misera multa punto il napoli squadra non c'entra niente per me se danno punti di penalità o addirittura vanno in serie b ci sarà una mega contestazione la mia in premis mi ho fatto proprio niente perché gli errori sono della proprietà non della squadra ok è successo è successo sta cosa è successo anche a juve milan inter a tutte le squadre la squadra non va toccata se la proprietà fa le stronzate è giusto la proprietà paghi punto penso che sia stato abbastanza chiaro altre dichiarazioni a ostigard sembra quasi vicino quindi tra oggi e domani dovrebbe arrivare l'ufficialità offerta sulla base cioè l'offerta offerta sarebbe stata accettata sulla base di 5 milioni il napoli era partita da 3 e brighton voleva 10 però è chiusa a 5 milioni su bernardeschi napoli penso si sia defilato completamente perché la forza economica non 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 penso che non napoli non ce la fa da dare 3 milioni 4 milioni a bernardeschi sempre se le voci erano vere e qua concordo io a me bernardeschi piace piaceva l'idea di vederlo nel napoli però non a 3 a 4 non a 3 a 4 altre cose dell'ufeu l'ultima notizia che ho letto proprio adesso è che in napoli sarebbe intenzionato a offrire Gaetano e Zerbino al posto di dell'ufeu cioè dare via due 22 anni due possono fare grandi cose per un 28enne boh capisco l'esperienza capisco tutto ma sinceramente è una puttanata cioè portali in ritiro perché sono validi sia Zerbino che soprattutto Gaetano hanno bisogno di giocare hanno bisogno di fiducia puntiamo sui giovani perché dell'ufeu ma io molti molti stanno imbiancando le stanze le case le strade per un possibile arrivo ma solo io non sono pazzi dell'ufeu certo è forte ma molti lo stanno dipingendo come il nuovo maratona come il nuovo salvatore della patria no per me no per me dell'ufeu ha fatto un ottimo diciamo finale di stagione l'inesi stagione è stato un po' anomalo può portare esperienza benissimo ma io per Gaetano e Zerbino non gliele darò mai io posso pure dargli 20 milioni tondi tondi ma i giovani non vanno toccati bisogna puntare sui giovani punto basta dobbiamo dobbiamo regalare i nostri giovani io no io non ci sto come anche non ci sto del fatto che cediamo Demme e Gaetano può essere sostituto di Demme sulla mediana no è una puttanata perché Gaetano è più offensivo è un trequartista seconda punta i giornalisti che fanno queste cose sti ragionamenti non so a rovigli nei sort vabbè ragazzi buona giornata noi ci vediamo la prossima volta un saluto a tutti forse o magari stesso oggi per l'ufficialità di Ostigard io mi scendo che vado a fare il controllo all'ospedale un saluto a tutti forza Napoli sempre e speriamo sulle prossime novità di calcio mercato ciao a voi